Innanzitutto il cambiamento in seno alla classifica del Girone F. Il Romagna centro ha avuto partita vinta contro l'Alfonsine. La gara si è giocata due settimane fa e sul campo è finita 1-1. Grave distrazione dello staff dell'Alfonsine è stata a schierare un elemento squalificato. Il Romagna sale a 28 punti. I corregionali sconfitti d'ufficio 3-0 scendono a quota 18 e cadono al penultimo posto appaiati con il Castelfidardo. Il Campobasso sta affinando la preparazione alla gara di domenica ieri classica amichevole del giovedì sotto lo sguardo attento tra gli altri anche di Raffaele Dirisio entrato da qualche settimana in pianta stabile nello staff dirigenziale Campobassano. La squadra è tranquilla e motivata. Ci sono da registrare degli acciacchi a Iaboni e Martiniello. Il primo però non dovrebbe dare forfè per domenica. La giovane punta campana invece è a rischio. La sfida del Bonolis sarà una delle quattro trasferte residue per il Campobasso. Tra questa il derby in Alto Molise contro l'Olimpia agnonese e poi anche altre due volte nelle Marche. Prima Civitanova, poi a Monte San Giusto contro il Monticelli. Silva non avrà a disposizione il solo Martinelli. Già fuori nelle ultime due settimane si dovrebbe procedere verso una riconferma pressoché totale dell'undici che ha sconfitto con grande disinvoltura la vastese. Ovviamente tenendo in debito conto le condizioni già dette di Iaboni e Martiniello a piano daccio. Si annuncia una partita equilibrata sulla carta con i terramani del San Nicolò che perdono poco ma vincono non troppo spesso. Solo un successo nel nuovo anno solare. Esattamente la vittoria allo scadere a Matelica targata Massetti nel finale di gara. Con i suoi 37 punti il San Nicolò è virtualmente salvo. Se dovesse battere il Campobasso potrebbe infliggere il definitivo colpo di grazia ad una classifica che sorrida agli abruzzesi. Stamane abbiamo sentito a telefono il tecnico del San Nicolò Epifani il quale non dovrà fronteggiare nessuna defezione per domenica fatta eccezione per il gioiellino napolano infortunatosi ai legamenti nel girone di andata e per il quale il campionato è praticamente finito già qualche mese fa. Epifani afferma che i suoi giocheranno con la testa assolutamente sgombra da assilli di classifica sul vestito tattico da adottare. Non è detto che sia il 4-2-3-1 tanto caro proprio al giovane allenatore abruzzese. Epifani si lascia sfuggire che il modulo dipenderà anche da come si sistemerà in campo un Campobasso definito in ottimo stato di salute. Qualcosa lascia intuire che il San Nicolò possa passare alle tre punte di fatto anche a partita in corso. Almeno questo ha lasciato intendere tra le righe il tecnico degli abruzzesi sempre in linea con gli obiettivi stagionali almeno da quattro anni a questa parte. A dire il vero l'anno scorso Epifani era di gradimento alla precedente proprietà del Campobasso. Sembrava in pole position per la panchina rosso-blu ma alla fine qualcuno consigliò per Roberto Cappellacci. Non sappiamo se Epifani avrebbe potuto fare meglio o peggio di quest'ultimo ma sappiamo con certezza che l'ex allenatore anche del Castelfidardo certamente non sarà mai rimpianto un secondo nel capoluogo del Molise.